A Maronna t'accompagna, ma chi guida sei tu. Per il particolare impegno nel coinvolgimento dei giovani, si segnala l'importante iniziativa dell'Automobile Club di Napoli, A Maronna t'accompagna, ma chi guida sei tu. È un'iniziativa che tende ad educare i giovani affinché siano pienamente coscienti e responsabili nella guida. Per il quinto anno consecutivo, centinaia di parrocchie partenopee ed oltre 50 scuole cattoliche insieme a LACI di Napoli hanno aiutato circa 3.000 ragazzi ad elaborare progetti inerenti alla sicurezza stradale. Il tema di questa edizione è stato sicurezza stradale e nuove tecnologie. I ragazzi hanno rappresentato il loro punto di vista sull'uso dei dispositivi tecnologici mentre si guida o si utilizza la sede stradale. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato, oltre al presidente ACI Angelo Sticchi Damiani e al presidente dell'Automobile Club di Napoli Antonio Coppola, anche autorità politiche e religiose, tra le quali il cardinale Crescenzio Sepe, il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone e il sottosegretario di Stato Antimo Cesaro. Sono intervenuti poco prima della premiazione i calciatori Colibali e Giorginio, che oltre alla propria disponibilità hanno dimostrato anche la sensibilità della società sportiva calcio Napoli, e il comico Abbacuccio. Prima della premiazione dei progetti ritenuti migliori sono stati premiati i benemeriti della strada, cioè uomini delle forze dell'ordine che operano sulla strada e che si sono distinti per l'abnegazione nel proprio lavoro. Tra le considerazioni di rilievo dei candidati riguardo ai comportamenti a rischio, si segnalano soprattutto l'uso dei selfie estremi, cioè degli autoscatti in prossimità di un pericolo, e dei Pokémon Go, gioco nel quale chi partecipa entra in una dimensione dove il pericolo non viene percepito. L'uso dei dispositivi telefonici durante la guida, che ha suscitato l'attenzione del governo e delle legislature precedenti, è stato oggetto anche della campagna di sensibilizzazione pensata per i social, molla sto telefono e guarda la strada, promossa dalla stessa ACI e rivolta soprattutto ai ragazzi, maggiormente predisposti a distrarsi per colpa del telefonino. Lo spot della campagna che ha visto come protagonista l'attore e sceneggiatore Francesco Mandelli, volto noto soprattutto al pubblico giovanile, è visibile all'indirizzo ac.it slash guardalastrada.html, sulla pagina Facebook di ACI Social Club e sull'account Twitter at ACI Italia. Grazie a tutti!